Cosa succede in città? Un approfondimento settimanale dove intervisteremo le persone che si occupano di vari settori, da politici e non rappresentanti di categoria, insomma cittadini algheresi che hanno qualcosa da dire e da raccontarci ai nostri microfoni. Partiamo con Michele Paes, consigliere comunale di Forza Italia. Lei rappresenta l'opposizione oggi all'amministrazione generale, la maggioranza che sostiene Mario Bruno. Partiamo proprio dalla cronaca di questi giorni, ovvero dalla manifestazione che ci sarà sabato per l'ospedale di Alghero. Sì, grazie intanto direttore per l'invito. La conferenza che si terrà presso l'ospedale di Alghero sabato 5 alle ore 10 non vuole far altro che richiamare l'attenzione tutta la cittadinanza rispetto a un problema grandissimo che è quello della sanità algherese. Come sa benissimo direttore, così come sanno bene tutti quanti cittadini di Alghero, la giunta Pigliaru ha approvato il piano di riorganizzazione delle strutture ospedaliere sarde, piano che vede declassato il nostro ospedale. Questo ovviamente è un fatto che va scongiurato assolutamente e quindi questa manifestazione si inserisce in quella rivendicazione di diritti e non di richieste di privilegi che tutti quanti i cittadini devono poter porre nei confronti di chi sta amministrando oggi la Regione. Peraltro le cronache attuali evidenziano una situazione di grande precarietà della struttura ospedaliera stessa. Abbiamo visto le infiltrazioni così come i ricoveri nei corridoi dell'ospedale ed è una condizione che non può essere tollerata ulteriormente. Quindi si parlerà sia dei problemi attuali, concreti, sia dei problemi legati alle prospettive così come disegnate da questo piano di disorganizzazione, così come lo chiamo io, della retta ospedaliera sarda. Questo momento di sabato si ricollega sicuramente alla marcia, come è stata chiamata per l'aeroporto, alla mobilitazione delle scorse settimane. Perché proprio anche l'aeroporto vive una situazione particolare. La speranza è quella che la privatizzazione possa ridare nuova vita proprio allo scalo e dunque all'intero territorio. Come vedere la situazione legata alla privatizzazione e la gestione proprio anche di questi anni? Sì, allora questa manifestazione, questa conferenza si inserisce in quel percorso di sensibilizzazione o di mobilitazione della cittadinanza rispetto a una condizione di immobilismo totale della politica. Così come è capitato per la sanità, anche i trasporti vedono il periodo più buio vissuto sino a ora. Infatti è noto a tutti il disimpegno del sistema low cost inaugurato proprio ad Alghero in conseguenza di scelte assurde da parte della regione. Ryanair ha abbandonato l'aeroporto di Alghero con conseguenze per la nostra economia devastanti. E quindi noi abbiamo cercato di smuovere le coscienze, di sensibilizzare tutti i soggetti parti in causa, quindi cittadini, tour operator, albergatori, la stessa sogeal, ma soprattutto la regione perché si corra e ripara rispetto a un problema di dimensioni enormi. Per quanto riguarda la privatizzazione non siamo e non sono diciamo preconcettualmente contrario alla privatizzazione. Anzi è evidente che una gestione privatistica dello scalo evidentemente potrebbe rilanciare con grande slancio appunto l'attività di questa importante infrastruttura. Qualche perplessità però ce l'ho rispetto al momento in cui fare questa privatizzazione. Infatti conosciamo la grande e diciamo la grave crisi anche economica dello scalo legato appunto ai mancati trasferimenti da parte della regione del sistema dei low cost. Situazione che probabilmente a mio modesto parere fa sì che non vi siano innanzitutto privati completamente interessati al nostro scalo. Ma soprattutto che non si riesca a mettere sul mercato uno scalo in maniera regolare, cioè in maniera che sia appetibile al mercato stesso. Si rischia praticamente di svendere o comunque di vendere male invece un'infrastruttura probabilmente la più importante del nostro territorio in termini di sviluppo economico. In queste settimane, in questi mesi ci si è soffermati nel dibattito a parlare di Ryanair sì, Ryanair no o comunque ovviamente in molte hanno rilevato l'importanza di questa compagnia. Però d'altra parte ci si deve soffermare oggettivo sul fatto che il territorio non ha risposto come ci si aspettava riguardo al settore del turismo. Perché è il turismo quello che poi crea l'indotto affinché i turisti stessi, i villeggianti, gli aerei arrivino qui carichi e dunque una compagnia come la Ryanair possa restare così come altre compagnie. A questo si collega un altro elemento che ha creato delle forti critiche ovvero la tassa di soggiorno che poi dalle recenti normative nazionali pare stiano sospendendo. Ma guardi, per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti parte in causa, come dicevo, sulla vicenda Ryanair, io penso che ci sia stata una presa di coscienza dell'importanza della partecipazione di tutti i comparti economici per mantenere Ryanair o comunque il sistema di trasporti low cost. In quest'ottica va vista l'iniziativa lodevole da parte degli imprenditori algheresi per la costituzione del fondo, di un fondo per appunto destinare alla promozione turistica di Alghero e quindi all'implementazione e sviluppo di rotte per nostra destinazione. Evidentemente questo non è sufficiente perché senza una regia regionale, senza un impulso forte e deciso come era stato dato sino a due anni fa, cioè sino all'insediamento della giunta Pigliaru, queste iniziative, pur lodevole lo rimarco, rischiano di essere assolutamente velletarie e completamente insufficienti rispetto all'obiettivo che si pongono. A questo si aggiunge, come diceva il direttore, un altro problema che è quello della tassa di soggiorno, una tassa di soggiorno che nasce come tassa di scopo, quindi che sarebbe dovuta andare allo sviluppo e alla promozione turistica, ma rispetto alla quale oggi probabilmente bisognerà fare altri tipi di ragionamenti. Prima di tutto perché purtroppo abbiamo visto che questo oggetto tributario non è stato destinato laddove invece la legge obbliga che venga destinato, cioè allo sviluppo turistico, cioè iniziative di sviluppo economico comunque legate al turismo. E seconda ragione è perché le condizioni economiche attuali legate al disimpegno di Ryanair probabilmente ci impongono, io ho fatto una proposta di moratoria, comunque di sospensione di questa tassa che potrebbe essere vista dai turisti come odiosa e come quindi un elemento in più per non scegliere Alguero. Non c'è più Ryanair, non ci sono più quelle condizioni favorevoli che invogliavano il turista a venire ad Alguero, quindi non gli dobbiamo dare nessuna scusa, nessun pretesto per non scegliere Alguero. Probabilmente bisognerà fare altri tipi di iniziative, magari in qualche modo per avvantaggiare e per stimolare la presenza del turista ad Alguero, ma ogni elemento che possa essere visto di ostacolo rispetto a un reperimento di flussi turistici, io penso che in questo momento particolare, in questo momento storico debba essere ripensato. Il suo ragionamento si ricollega sicuramente anche quello riguardante il regolamento dei tavolini, comunque dei suoli pubblici, che ha visto sorgere una polemica in questi mesi veramente forte tra il comparto mercantile, in generale, dunque ristoranti, bar e altre tipologie di locali, riferite al proprio regolamento predisposto dall'assessorato guidato da Natascia Lampis e dall'attuale amministrazione, già da un anno in dotazione. Questo ha creato delle notevoli polemiche, soprattutto perché non c'è stata chiarezza nella materia, dunque gli stessi titolari dei locali non hanno saputo come comportarsi e come rispetto proprio all'attuazione delle normative varie. Ci troviamo oggi che però nulla è cambiato e la stagione turistica è alle porte. Ma guarda, io non penso che non ci sia stata chiarezza o che, insomma, non sia stato capito bene il regolamento. Io penso che il regolamento prodotto da questa amministrazione sia un completo pasticcio. E sia stato il primo atto in cui si era manifestato in tutta la sua dirompenza l'incapacità amministrativa di questa giunta. E lo dico, guardi, direttore, senza mezzi termini, cioè non ci si può nascondere dietro un dito, quanto è successo quest'estate rispetto al problema dei tavolini non si era mai visto ad Alghero. Situazioni di assoluta anarchia, di deregulation totale, nonostante i segnali ci fossero stati tutti rispetto ai quali noi come opposizione avevamo invitato, se non addirittura pregato l'amministrazione di rivedere alcune scelte, che poi si sono viste, si sono rivelate assolutamente sbagliate. Speriamo che non si ripeta quest'anno la situazione di anarchia e di pasticcio totale che abbiamo visto l'estate scorsa, però io penso che puntualmente si ripeteranno le situazioni brutte che abbiamo visto quest'estate. Anche perché come lamentano molti titolari di ristoranti, almeno che ci scrivono e ci segnalano il fatto, dei tavolini, comunque rappresentano i tavolini, per dire dunque delle attività aperte, rappresentano dei servizi. E una città come abbiamo visto in questi mesi qua invernali e autunnali ha necessità proprio di servizi, se no è inutile, lo ribadiamo, che arrivino qua nuovi voli Ryanair o non Ryanair, perché se poi le attività sono chiuse o comunque non ci sono dei servizi, questi turisti non è comprensibile dove possono andare. Un altro problema di questi giorni, che è ancora più grave perché potrebbe vedere interessate dalle persone che potrebbero perdere il loro posto di lavoro, è quello della società in house, di cui lei si è occupato spesso. Ci sono delle novità in merito? Anche la società in house veramente fa parte della compilation di disastri messi a segno da questa amministrazione. Anche rispetto alle società partecipate del comune di Alghero, quindi società in house, ma non solo, perché c'è il problema anche della SECAL e della Fondazione Metta, abbiamo assistito a delle scelte completamente sbagliate. Scelte completamente sbagliate che stanno mettendo a rischio concreto e attuale il posto di lavoro di almeno 16 unità lavorative. È notizia recente di qualche giorno della mancata sottoscrizione dell'accordo tra sindacati e società stesse, quindi amministrazione circa il fatto di poter prevedere un contratto di tipo part time a 27 ore, questo evidentemente apre le porte a un'unica strada percorribile che è quella del licenziamento collettivo. È evidente che questo non si possa assolutamente accettare. Alghero non si può permettere di perdere neanche un posto di lavoro e 16 unità lavorative che perdono lo posto di lavoro, minimo, e sto facendo una previsione a ribasso, è un fatto assolutamente che noi non possiamo tollerare. Ho fatto loro una proposta perché io penso che la critica quando non viene accompagnata da proposte poi rimanga vuota e quindi noi insieme alla critica, che è feroce, abbiamo fatto una proposta semplice, però chiara, che è quella dell'accordo del trasferimento di queste unità lavorative dell'accessione del ramo d'azienda relativa alla manutenzione ordinaria alla Multis. Come sa è stata approvata dalla Regione Sardegna la rette metropolitana di Sassari, anche con una indicazione e qualificazione anche non troppo chiara, però è stato fatto alla Giunta, questo provvedimento è stato approvato alla Giunta, evidente che i servizi relativi alla rette metropolitana del Nord Sardegna di Sassari verranno svolti dalla Multis, ecco io penso che, pensare che anche il ramo d'azienda della società in house che svolge i servizi di manutenzione ordinaria venga ceduto alla Passa della Multis, io penso che sia una proposta concreta che consenta da una parte di continuare di avere un servizio che è quello delle manutenzioni cittadive, che sono un fatto assolutamente necessario per la città e contemporaneamente quello di salvare il posto alle persone che attualmente vi lavorano. Lei Pais è stato anche Assessore alle Finanze, si è parlato spesso anche nelle precedenti campagne elettorali di un presunto buco che avreste lasciato al Comune di Alghero quando lei è Assessore con le Giunte Tedde. Lo Assessore Tankis recentemente ne ha riparlato, c'è stata una polemica collegata alla Secal, la domanda è se questo buco c'era o c'è e soprattutto come è possibile, ci chiediamo da cittadini, soprattutto che il Comune di Alghero sia passato ad essere un Comune abbastanza ricco comunque dove si potevano fare le cose, ad oggi dove non ci sono i soldi per coprire le buche nelle strade. Per una semplice ragione, perché vi è una conclamata incapacità di questa amministrazione di svolgere il ruolo che gli è stato affidato dai cittadini algheresi. Non esiste alcun buco, i numeri dati dall'amministrazione in merito a mancate riscossioni di tributi sono numeri dati non a caso ma a casaccio, non c'è né traccia assolutamente rispetto a quanto affermato dall'amministrazione rispetto a questi numeri. L'amministrazione, così come approvato dai propri documenti contabili, dei bilanci della Giunta Bruno, ha sempre chiuso in avanzo, cioè inutile. Quindi questa buttade del buco di bilancio serve solamente come foglia di fico per coprire la vergogna circa un'incapacità di amministrare che ormai penso sia evidente a tutti. Il bilancio del Comune di Alghero è un bilancio sano, è un bilancio che rispetto anche agli altri comuni ha capacità anche di indebitamento che peraltro è stata utilizzata dalla Giunta Bruno perché i fondi Jessica utilizzati da questa amministrazione, per esempio per coprire la piscina di Alghero altro non sono che di mutui. È vero sì a tasso agevolato ma pur sempre mutui e quindi questa amministrazione ha deciso di aumentare l'indebitamento di questo Comune. Questo non l'avrebbe potuto fare se i conti del Comune stesso non fossero stati in perfetta regola perché una condizione necessaria per la contrazione di nuovi mutui è il fatto che le risultanze contabili siano non solo in regola dal punto di vista formale ma anche dal punto di vista sostanziale. È evidente però che la crisi generale che la Sardegna soffre in maniera particolare e questo territorio ancora di più ha portato a una mancanza di liquidità però a questa si può superire con interventi progettuali di vario tipo che possano portare qui dalle ricchezze e dunque riqualificazione per esempio del Porto che pare un argomento dimenticato, Maria Pia, nuove strutture e servizi, campi da golf su questi aspetti una sua opinione generale proprio per un nuovo rilancio del territorio. Porto, Puc, Maria Pia sono i temi più qualificanti in termini di programmazione che può fare un'amministrazione algherese. Nessuno di questi temi è mai stato affrontato dall'amministrazione Bruno ma dico nessuno dei temi qualificanti è stato affrontato dall'amministrazione Bruno perché io non ricordo, a parte provvedimenti portati dalla minoranza, dall'opposizione alcuna delibera degna di nota di questa amministrazione una delibera che in qualche maniera possa essere ricordata dai cittadini io sfido qualsiasi cittadino a ricordare una sola delibera che in qualche maniera possa lasciare traccia futura ad Alghero non ce n'è neanche una e quindi figurarsi rispetto a temi così importanti che qualsiasi amministrazione dovrebbe affrontare come quelli di Maria Pia, Porto e Puc il Porto è una grande risorsa economica che abbiamo in città è un porto cittadino, uno dei più grandi d'Europa che potrebbe costituire un grande volano di sviluppo economico ma probabilmente, non so se si tratti di interessi in gioco non so se si tratti di incapacità di fatto c'è la volontà ormai palese di non voler affrontare il tema stessa cosa dicasi per Maria Pia non c'è nessun tipo di idea rispetto allo sviluppo di quest'area se non delle penose linee di indirizzo che dicono tutto ma non dicono niente e che di fatto non pone i paletti rispetto invece a un utilizzo in termini ecoambientali ma anche eco nel senso di economici ambientali rispetto a un'area che invece è di grande pregio appunto come dicevo sia ambientale che di prospettive economiche il PUC non se ne parli perché mi sembra che questa amministrazione non abbia nessun tipo di volontà di affrontare un problema che non è nelle sue corde ma che non ha nessun tipo di possibilità o capacità di poter approcciare temi così importanti Per chiudere un passaggio sul tema dei temi che è quello che dovrebbe garantire l'economia ovviamente a tutto questo territorio ovvero il turismo come giudica l'operato dell'amministrazione in generale anche velocemente della regione Sardegna in questo ambito Lei direttore Furbetto lei sa benissimo che il giudizio che io do a questa amministrazione rispetto alla programmazione del turismo è pessimo i due assessori la coppiata dei due assessori allo sviluppo economico e al turismo stanno producendo nulla quelli che vengono sbandierati come grandi eventi turistici e culturali di fatto sono piccolezze che non hanno nessun tipo di possibilità di intercettare flussi economici così come dovrebbe fare una città come quella come Alghero anche la stessa gestione della fondazione Metta è una gestione fallimentare non si capisce che tipo di funzione che tipo di mission questa amministrazione abbia dato alla fondazione Metta insomma un completo fallimento su tutti i settori cittadini ovviamente è primo tra tutti quello turistico che dovrebbe essere invece il settore che trae nella vita lo sviluppo sociale, economico e culturale di questa città va bene furbetto o no sono un cittadino con gli occhi vigili e guarda quello che accade chiudiamo qui questa prima puntata salutiamo Michele Paes ringraziamo Roberto Lampis per il supporto tecnico e dedichiamo questa prima puntata con un saluto a Paolo Ballero e Massimo Sagratti